A D'Aleppo, nel nord della Siria, gruppi ribelli e forze governative continuano a combattere, a dispetto della tregua di tre ore annunciata dalla Russia per la consegna degli aiuti umanitari. I siti di informazione vicini all'opposizione denunciano un attacco con gas tossici sul distretto Zabadia, controllato dai ribelli. Sganciati barili bomba contenenti cloro, almeno quattro le vittime, tra cui una donna e il suo bambino, oltre 50 i feriti, diverse persone hanno avuto difficoltà respiratorie. Secondo l'ONU ci sono prove a sostegno di questo attacco. Non sta a me stabilire cosa è successo, ma ci sono diversi elementi che tendono a confermare che la città di Aleppo sia stata effettivamente colpita da un attacco chimico. Ci sono indagini in corso, se fosse così si tratterebbe di un crimine di guerra. L'ONU ha chiesto una nuova tregua umanitaria di 48 ore. Secondo l'osservatorio siriano per i diritti umani, un convoglio di camion con aiuti per la popolazione è entrato nei quartieri occidentali di Aleppo, in mano alle forze di regime, dove vivono 1,2 milioni di persone. In 250.000 si trovano invece nei quartieri orientali in mano ai ribelli, persone intrappolate in una città in guerra e ridotta in macerie.